Chiamo qui Moreno Cedroni che è della ristorante Madonina del Pescatore 2 STL Michelin poi ci spiegherà se la tecnologia si sposa con la ristorazione d'eccellenza poi abbiamo Mario Sorbo di Food Discovery che non vedo Antonio Bisceglia, poi abbiamo Paolo Rellini di Regusto, Virgilio Maretto di Posti, Paolo Montorfano di Viveca Ristoranti vediamo se bisogna aggiungere, no ci sono tutti ovviamente l'ambiente è molto informale, è una chiacchierata tra amici non staremo qui a fare grandi esplorazioni sulla tecnologia e sulla sfida digitale però credo che la migliore testimonianza di quello che si può fare è data dal racconto dei protagonisti noi abbiamo ovviamente le persone che lavorano per sviluppare tecnologie però poi vediamo l'applicazione concreta perché da lì capiamo se è utile, se è amica o se non è amica la tecnologia qualcuno per esempio prima quando l'assessore ha fatto cenno alla sua compagna che smanettava con il cellulare pensando ai luoghi, una delle più grandi innovazioni che io ho visto nel mondo del fuoricasa è un bicchiere che si tiene solo se ci metti il cellulare sotto questa è stata una invenzione di un vostro collega, di un ovviamente collega ristoratore in un pub che aveva visto che quando si stava a tavola tra marito e moglie, compagni e compagni eccetera tutti tendevano a stare col cellulare in mano a non parlarsi siccome lo dice sempre il presidente Cursano che il pubblico esercizio è il luogo della convivialità lui avebbe questa ispirazione, disse adesso vi sistemo io un bicchiere tagliato a metà sotto che si teneva col cellulare ecco quindi questa innovazione per esempio è una grande innovazione, non è tecnologica anzi è antitecnologia però noi siamo, è sempre la benvenuta allora parliamo di cambiamento, di trasformazione, voi sapete guardate qui tutti stanno col cellulare per fortuna in questo momento nessuno telefona ma stanno facendo foto, mandano tweet, usano instagram e così via quindi il telefono ormai serve a fare tutta una serie di cose io racconterei, qui ci sono protagonisti che vengono da esperienze diverse ognuno a modo suo, non c'è un filo conduttore tra tutte queste storie vediamo se alla fine riusciamo a trovarlo il filo conduttore ecco io allora per primo aprirei proprio così la discussione la riflessione passando il microfono a Moreno Cedroni che lo ripeto ma non so non perché bisogna esaltare le persone e rappresenta una certa parte della ristorazione quella appunto che ha i riconoscimenti della guida Michelin due stelle Michelin, uno pensa alla grande ricercatezza della materia prima io riesco ad arrivare fin lì, grande professionalità grande competenza nella trasformazione, grande servizio però dico come direbbe qualcuno è la tecnologia che ci azzecca il digitale in un ristorante come la Madonna del Pescatore grazie per la parola allora intanto apro subito con questa cosa allora intanto scusa puoi fare una foto mentre perché dobbiamo subito pubblicare va bene? no basta una ok quindi fatto questo la tecnologia serve un casino io mi reputo cintura nera di Instagram perché mi piace molto e puoi fotografare quello che stai facendo quindi quel piatto e quell'ingrediente viene fotografato e hai delle possibilità di sistemare la foto che quando è bella è bella non ha bisogno di niente e quando è così così o non c'è la luce perfetta dà il massimo e quindi lo comunica ai tuoi clienti e diventa un veicolo promozionale io vedo che c'è comunque un aumento di clientela adesso io ho fatto questa foto devo cercare anche degli hashtag giusti e adesso mi è venuto in mente un hashtag ti fiamo Fipe quindi carino così lo metto lo lancio che facciamo anche pubblicità alla Fipe per quello che fa e faccio un esempio al clandestino nel posto che ho sul mare un posto bellissimo nel Monte Conero il mattino faccio due colazioni una salata e una dolce ho iniziato a promuoverle c'è stato l'assalto e la gente arrivava alle 8 si sedeva anche se il posto era chiuso alle 8 e mezza arrivavano i ragazzi e già i tavoli erano pieni di gente che aspettava le colazioni quindi c'è stato un disastro ho dovuto limitare le pubblicazioni poi la tecnologia serve perché come detto ce n'è tanta di tecnologia applicata ad altri settori tipo nel settore medico farmaceutico allora io quest'anno ho fatto nel garage di casa perché mi avevano detto che una persona nel garage di casa ha avuto fortuna un laboratorio di sviluppo e ricerca l'ho chiamato The Tunnel perché quando fai ricerca sei al buio non sai quello che andrai a trovare perché se lo sapessi non faresti ricerca e quindi è completamente nero quindi pavimento, mura, soffitto tutto nero e quando entri dentro ti senti veramente distaccato dal mondo e ho inserito delle tecnologie nuove per la cucina quindi liofilizzatore oppure un evaporatore oppure gli ultrasuoni quindi cose che non erano per la cucina tipo gli ultrasuoni servivano i bagni di ultrasuoni per lavare i motori o i carburatori tutt'altro allora liofilizzatore prime prove metti una cosa congelata a meno 60 gradi sottovuoto toglie tutti i liquidi ci abbiamo messo un'ostrica è venuta leggerissima liofilizzata il cliente se la sbriciola sul piatto bellissimo una pentola a pressione coreana che fermenta quindi umidità e temperatura loro mettono il loro aglio nero perché poi lo fermentano io ho messo le banane dopo dieci ore la buccia era nera da buttare via ma aveva preso tutti gli zuccheri della polpa è venuto fuori il gelato alla banana più buono del mondo quindi tutte queste applicazioni che non erano per la cucina come la liofilizzazione stanno dando dei buoni risultati l'importante è applicarli evaporatore metti una miscela puoi mettere il caffè a 50 gradi sottovuoto bolle forma il vapore il vapore va in una serpentina esce un liquido bianco che sa di caffè fa il gelato al caffè bianco bellissimo ma se metti un alcol quest'anno sono i 150 anni del negroni e metti il bitter evapora 100? 100 hai ragione evapora e esce un liquido bianco che sa di vermut esce un liquido bianco che sa di bitter lo unisci al gino a quello che vuoi e fai il negroni ghost cioè il negroni che è trasparente quindi una tecnologia positiva che non deve trasformare o sbizzarrire quello che tu stai facendo ma lo deve arricchire e gli deve dare delle note in più come quello che tu pubblichi su Instagram non deve gonfiare quello che tu stai facendo ma deve incuriosire le persone che non ti conoscono a venire a prenotare da te o a parlare ma sai ho visto qui ho visto là quindi la tecnologia usata bene naturalmente segreto di pulcinella qual è? che se ci sono gli ingredienti buoni il piatto viene buono se quello che pubblichi e fai lo fai con i giusti ingredienti avrai la giusta risposta se pubblichi cose non vere o gonfiate poi ricevi cose dello stesso valore ecco grazie allora nella presentazione mancava Tunde Pexvari del ristorante Macia Caffè di Milano che racconterà la loro esperienza nel mondo del digitale in un'attività di ristorazione con un'attività di ristorazione moderna per certi aspetti comunque legata non alla tradizione italiana ma sicuramente innovativa credo che ormai avete aperto più di un punto di un esercizio cinque ecco ti darei subito la parola perché qui stiamo rappresentando alcune esperienze parleremo di blockchain parleremo poi di piattaforme di marketplace parleremo di strumenti per il contrasto allo spreco alimentare qui parleremo di prenotazioni online ma anche di altre cose e parleremo anche di delivery che non è che è una diciamo oggi è un modello di business che funziona in alcuni contesti a cui la ristorazione forse anche quella tradizionale potrebbe affacciarsi da qui al futuro vediamo come magari ci racconti la tua esperienza e anche come ti sei avvicinata al mondo della ristorazione perché credo che sia curioso questo curioso da raccontare non volentieri dunque allora cominciamo da matcha matcha caffè è il primo matcha bar in Italia il matcha è una varietà giapponese di tè verde è la varietà più prestigiosa si presenta in polvere perché viene macinata a pietra all'origine proprio per preservare tutte le componenti tutte le proprietà nutrizionali anche ad esempio gli antiossidanti che sono presenti in valori molto molto alti essendo un ingrediente in polvere è possibile utilizzarlo anche per la preparazione di alimenti soprattutto dolci quindi il matcha in quanto matcha caffè riceve il suo nome appunto da questo ingrediente che da noi è protagonista ma non è l'unico ingrediente ovviamente con il quale lavoriamo come diceva giustamente Luciano il nostro è un concept di ristorazione molto moderno contemporaneo questi matcha bar sono presenti già a livello internazionale in diversi paesi nel mondo sono partiti soprattutto da New York da Londra da Parigi da Tokyo in Italia è arrivato abbastanza presto perché noi abbiamo aperto tre anni fa e credo che anche a livello mondiale Milano fosse stato forse il quinto o sesto paese nel mondo che ha proposto una tipologia di questo genere noi ci definiamo un fast casual quindi è una tipologia di ristorazione molto veloce molto informale molto fruibile non abbiamo ad esempio il servizio al tavolo quindi il cliente arriva al banco sceglie dal menu esposto ordina lascia il suo nome e noi dopo chiamiamo la persona che viene a ritirare il suo vassoio quello che ha ordinato quindi fin dall'inizio da quando noi abbiamo pensato a questo concept abbiamo sempre ragionato sia in termini di consumazione all'interno dello store sia in termini di take away e delivery quindi prima ancora di aprire noi avevamo già le idee molto chiare e abbiamo fondamentalmente studiato tutto il menu e tutte le procedure in base a una possibilità di take away e delivery ora io penso che sia vero quello che dice Luciano quindi la ristorazione tradizionale può e a mio avviso deve avvicinarsi al mondo del delivery però indubbiamente progettare direttamente un esercizio di ristorazione tenendo presente il delivery e il take away è un vantaggio incredibile perché se è vero che il delivery è un'occasione per tutti è anche una come posso dire una tipologia di vendita che deve essere pensata in maniera differente rispetto a quello che facciamo normalmente nei ristoranti lo so perché in realtà noi abbiamo anche dei ristoranti classici tradizionali quindi abbiamo questo background tanto è vero che il nostro ristorante se si può definire maggiormente classico italiano si chiama Osteria Brunello con il servizio al tavolo ammetto che tutt'oggi non offre ancora il servizio delivery che è molto strano visto quanto bene stiamo andando con Maccia però questo succede perché la proposta dell'Osteria Brunello dovrebbe essere trasformata per poter essere consegnata è un problema più dal lato della domanda o dal lato dell'offerta cioè mi spiego meglio rispetto alla ristorazione tradizionale affrontare il mondo del delivery è il vincolo è dato la domanda che non chiede quel tipo di ristorazione è un problema organizzativo in realtà è una domanda fondamentale secondo me questo sicuramente c'è una differenza di domanda dal pubblico nel senso che il delivery tradizionalmente funziona molto bene per determinate tipologie di prodotti quindi viene richiesto maggiormente la pizza l'hamburger il sushi oggi poche e diciamo così l'healthy food quindi indubbiamente esiste una richiesta maggiore per questa tipologia però a mio avviso comunque ogni prodotto ha il suo mercato magari minore però lo ha cioè io comunque non lo trascurerei il motivo per cui ad esempio noi con l'Osteria Brunello ancora non lo offriamo questo servizio è perché in quel caso andrebbe ripensato sia il prodotto esatto andrebbe ripensato il prodotto sia per venire incontro alla domanda che c'è ma anche proprio a livello di concetto di come concepiamo noi come ristorante il prodotto cioè alcuni piatti che per noi sono un simbolo io oggettivamente non lo potrei proporre per il delivery quindi dovrei magari pensare a una variante che ricorda quello che facciamo nel ristorante però viene trasformato per essere trasportabile tiene la temperatura è godibile anche mezz'ora dopo che è stato preparato quindi viene proprio ripensato dobbiamo ripensare il prodotto quindi è prodotto che deve essere modificato in quel caso operations che deve essere modificato quindi noi abbiamo una cucina tradizionale con tutti i spazi insomma sfruttati al millimetro con tutte le persone che lavorano che hanno i loro compiti banalmente se noi inseriamo il delivery siccome per fortuna tocco tutto quello che si fa stiamo lavorando bene quindi siamo anche molto impegnati se inseriamo anche il delivery questa è una complessità in più che deve essere gestito paradossalmente è più semplice gestirlo quando ci sono delle risorse libere o degli spazi liberi noi in questo momento lì ne abbiamo pochi quindi probabilmente è un progetto che faremo e anche a livello di marketing va gestito quanto adesso in macia il delivery quanto pesa se puoi sì certo posso posso qui noi ci siamo dati un obiettivo tre anni fa e incredibilmente siamo riusciti a tenerci in quel range l'obiettivo che ci siamo dati è il peso del delivery dovrebbe variare tra il 20 e il 30% del fatturato e infatti varia esattamente tra il 20 e il 30% del fatturato cambia di mese in mese ovviamente un mese 22 un mese 27 non ci sentono le piattaforme sì no e non ci sono è così immagino queste commissioni e non ti chiedo qual è la commissione perché magari è un dato quello non potrei neanche volendo però sono diciamo secondo quello che tu sai per la tua attività ma sai anche quali sono le commissioni poi che vengono pagate sono sostenibili dunque questo è un altro tema fondamentale le commissioni sono alte sono molto alte allora lì anche abbiamo due strade differenti o in fase di progettazione dell'offerta in qualche modo il ristorante cerca di tenerne conto e quando disegna il prezzo dei prodotti lo comprende già quella commissione però in questo modo chiaramente alzando i prezzi riduce il potenziale di fatturato però salva il margine quindi questo è un modo di vedere a mio avviso l'altro modo di vedere è quella situazione in cui che è tipico di Maccia noi abbiamo vissuto questo in Maccia il primo store che abbiamo aperto aveva 15 posti a sedere ora chiunque lavora nella ristorazione sa che è estremamente difficile rientrare nei costi con 15 posti a sedere quindi noi abbiamo già tenuto presente questo abbiamo progettato il locale pensando a takeaway e delivery che in quel caso per quel singolo locale supera anche il 30% perché è giusto che sia così quindi deve essere visto in un modo differente la percentuale che noi riconosciamo a queste piattaforme è una percentuale che include tutta una serie di costi che è vero che riconosciamo alle piattaforme ma non sosteniamo in realtà in primis quindi non si potrebbe stare in piedi con un locale secondo me interamente funzionante solo sulle piattaforme almeno che i prezzi non siano stati pensati già in quel modo invece secondo me è sostenibile se una parte delle nostre risorse che altrimenti non verrebbero sfruttate al 100% le dedichiamo al delivery è chiaro e poi magari facciamo poi un altro giro è chiaro che nel momento in cui si fa un'operazione sul prezzo che ingloba anche le commissioni o una parte di commissioni bisogna pensare a un modello di business che è molto focalizzato sul delivery perché in caso contrario sarebbero penalizzati i clienti che vanno in shop all'interno dell'attività quindi bisogna trovare quell'equilibrio noi infatti non lo facciamo noi in Macio abbiamo gli stessi prezzi esatto perché quello è un problema quindi poi torniamo magari poi ti chiedo anche altre cose adesso per passare su un altro versante una delle prime attività che fa un ristoratore è quella dell'approvvigionamento delle materie prime allora tutti si va al mercato si va dal macellaio poi ci sono anche una volta si andava era il ristoratore per lo più che si muoveva e andava a cercare il prodotto poi adesso c'è anche la consegna ovviamente a domicilio da piattaforme logistiche che fanno da distributori fino ad arrivare adesso a nuove frontiere che sono quelle dei mercati virtuali dei mercati il marketplace come food discovery per esempio ecco perché un ristoratore dovrebbe intanto se ci dice come è fatta che cosa quali sono i prodotti le referenze che trattate poi perché un ristoratore dovrebbe rivolgersi a una piattaforma come le vostre quali sono i vantaggi che tipo di referenze trova Food discovery è una piattaforma marketplace che permette di incontrare direttamente tutti i piccoli produttori delle varie eccellenze regionali della nostra nazione quindi il ristoratore andrebbe praticamente a scavalcare tutta quella che ad oggi è la logica tradizionale della distribuzione quindi con una società che acquista per rivendere con dei margini del 60-70% più alti tramite una gerarchia di agenti e responsabili di zona che comunque assorbono o rientrano all'interno del prezzo di questi prodotti Food discovery nasce proprio da questa necessità ovvero la necessità del ristoratore o comunque del cliente che deve cercare e deve approvvigionarsi di determinate materie prime e dall'altra parte la necessità del produttore del piccolo produttore che è talmente focalizzato ad eccellere in quello che fa che è la sua produzione artigianale che ovviamente non ha la potenza commerciale di uscire fuori dal dal suo territorio quindi per quanto riguarda i nostri prodotti noi trattiamo tutte le categorie di prodotto noi partiamo dal tonno rosso di favignana pescato a lamo fino alla pasta di grano duro senatore cappelli macinata a pietra con il germe di grano all'interno quindi noi siamo arrivati in 4-5 anni a sviluppare una tecnologia dal punto di vista appunto di infrastruttura tecnologica per poter accedere facilmente a dei prodotti veramente particolari e anche rari quindi sono prodotti di qualità di nicchia per lo più perché è ovvio che vi dovete però l'altra cosa che voglio chiederti è questa siccome la logistica non è una variabile indipendente è il cuore così come nel delivery noi sappiamo che poi c'è un problema c'è una vetrina in cui ci sono i ristoranti poi c'è la consegna anche qui sull'approvvigionamento delle materie prime c'è la vetrina poi c'è la consegna bisogna garantire l'approvvigionamento delle materie prime con continuità perché i menu dei ristoranti non vengono cambiati di giorno in giorno vengono fatti poi in qualche modo è vero che si va verso anche in alcuni casi il prodotto che il mercato offre in quelle giornate però in linea di massima ci sono menu che vengono cambiati di tanto in tanto a volte più velocemente a volte meno velocemente quindi voi riuscite a garantire questo livello diciamo di affidabilità? Allora noi accompagniamo il piccolo produttore nella vendita a 360 gradi quindi gestiamo la distribuzione dal punto di vista logistico la fatturazione e la commercializzazione quindi con un supporto sia nella selezione della qualità del prodotto che anche nella decisione del prezzo di uscita quindi la logistica la gestiamo interamente noi e spediamo ovviamente il secco con i classici spedizionieri che in 24-48 ore raggiungono un po' tutta Europa fino alla spedizione di prodotti molto delicati come ad esempio il gambero rosso o il tonno rosso che devono essere abbattuti e consegniamo direttamente noi con dei furgoni a meno 20 a meno 40 quindi gestendo veramente dal secco al fresco super fresco quindi carne derivati fino al frozen super frozen controllando appunto tutta la filiera come mi diceva lei i prodotti di qualità e quindi di nicchia in realtà il prodotto di qualità è diventato di nicchia proprio perché i piccoli produttori si devono affidare sempre di più a questi grandi distributori questi grandi colossi che però escono con dei prezzi davvero alti perché sono strutturati con delle diciamo disposizioni commerciali diverse da quello che è food discovery food discovery va ad abbattere tutta quella che è la logica commerciale che c'è oggi quindi se il ristoratore vuole acquistare direttamente dal pescatore di favignana non deve fare l'ordine al classico distributore che poi magari gli propone il tonno spagnolo piuttosto che un altro perché ce n'è poco ma tramite la nostra piattaforma manda un ordine direttamente al pescatore scavalcando tutta la la logica è proprio un acquisto diretto la fattura viene fatta direttamente da produttore a cliente e quindi abbiamo dei prezzi più bassi poi magari qualche nostro imprenditore dirigente qua che sta sul pezzo ci dirà qualcosa al riguardo io faccio soltanto una considerazione è evidente che un modello di questo tipo è un modello che parla al mondo dei piccoli produttori ma poi si rivolge al mondo della ristorazione che ha dei ritmi diversi cioè in termini di consumi di approvvigionamento di materie prime ecco quindi dalla vostra esperienza tutto filaliscio non ci sono corti circuiti dal punto di vista dell'approvvigionamento si riesce che dimensione avete raggiunto voi oggi quanti clienti avete noi siamo partiti con la vendita ai privati 4-5 anni fa quindi vendevamo esclusivamente al canale B2C da circa un anno e mezzo siamo partiti invece specializzandoci sempre di più nella vendita al B2B che ad oggi assorbe il 70-80% di tutto il fatturato quindi in un anno e mezzo siamo cresciuti molto velocemente proprio sul B2B quindi abbiamo soddisfatto in particolar modo proprio le esigenze dei ristoratori quanti ristoranti sono clienti oggi? ad oggi abbiamo registrato circa 120-140 mila ristoranti in piattaforma sulla piattaforma registrati 140 mila ristoranti? sì ovviamente non tutti hanno fatto il primo ordine però sono tutte persone che si sono affacciate e si stanno approcciando al piccolo produttore tramite il digitale tramite il web per quanto riguarda la consegna secondo le richieste del ristoratore che è un punto cruciale noi offriamo ai produttori anche un servizio di stoccaggio merce proprio per essere più efficienti nelle consegne quindi il ristoratore che mette a menu il gambero rosso di Mazzara del Vallo ovviamente non può aspettare che il gambero arrivi da Mazzara del Vallo se si accorge due giorni prima che nel frigo che nell'abbattitore ce n'è poco quindi noi abbiamo dei magazzini che fungono da hub logistici dove il ristoratore si accorge che è finita la merce invia un ordine sulla nostra piattaforma e nel giorno prestabilito della consegna di quel prodotto arriva il prodotto in modo regolare ok grazie adesso scusa presidente quante referenze abbiamo un catalogo formato da 3.000 referenze di 300 piccoli produttori adesso c'è un motivo ci sono molte cose non disponibili allora quello che sta vedendo è il sito per i privati perché il sito per i ristoratori è accessibile solo dopo essersi iscritti e comunque i produttori sono liberi proprio perché noi dobbiamo assecondare la stagionalità dei piccoli produttori dei prodotti d'eccellenza appena c'è un prodotto che va fuori stagione comunque è stato esaurito in loro scorte i produttori vanno sul nostro sito e lo mettono sul non disponibile questo è il bello della tecnologia che uno va subito a vedere prima di passare volevo far fare c'è un altro corno della sfida digitale dell'innovazione che è quella noi siamo partiti qualche anno fa con The Fork a fare un ragionamento sul tema della prenotazione online perché ci sembrava che in un momento in cui tutti stanno con lo smartphone in mano e vanno a cercare i ristoranti sulle piattaforme anche diciamo di diverso tipo di cui una importante è quella che è proprietaria di The Fork di cui fa parte The Fork era poi ritenevamo che fosse incredibile che non potessero poi prenotare online subito con un click così come abbiamo scoperto che il 24% dei turisti prenota un ristorante prima di partire o durante il soggiorno online quindi se uno non è online non ti vedono allora qui abbiamo l'imprenditore titolare di due ristoranti si chiamano Viveca sempre qui a Milano Milano non è diciamo la frontiera unica dell'innovazione tecnologica è per ragioni anche diciamo di comodità abbiamo puntato su una ristorazione che peraltro sta facendo grandi passi in avanti dal punto di vista organizzativo che ha fatto una scelta che è quella di avvicinarsi alla tecnologia di utilizzare tutte le potenzialità della piattaforma perché noi siamo stati a riflettere sul fatto se fosse solo importante utilizzare la prenotazione ma non il gestionale perché il gestionale a volte può avere delle criticità ecco ci può raccontare la sua esperienza da questo punto di vista ecco le lascio grazie abbiamo dato lo sgabello più scomodo ma ben tutto buongiorno allora noi utilizziamo per questi nostri due ristoranti pizzerie che abbiamo qua a Milano ormai da diverso tempo il gestionale di Vefork e accettiamo ormai da diverso tempo le prenotazioni online ed è uno strumento non solo ormai utile ma ritengo necessario perché come diceva lei prima ormai tutte le persone sia che siano clienti abituali sia che siano clienti occasionali si rivolgono verso i pubblici esercizi molto spesso guardando il semplice telefonino e non scegliendo magari quello che realmente vorrebbero mangiare ma si affidano a quello che vedono apparentemente su un telefono su un computer e questo strumento che noi utilizziamo ormai da diverso tempo ritengo sia non solo utile dal punto di vista dell'acquisizione di nuova clientela ma anche dal punto di vista del lavoro quotidiano perché ad esempio Vefork da ristoratori uno strumento che è il loro gestionale che può aiutare chiunque anche uno che è profano nell'utilizzo del computer a sostituire quello che una volta era semplicemente scrivere a penna su un foglio di carta utilizzare un computer e inserire prenotazioni nominativi i clienti le scelte dei clienti lo strumento che loro danno mi permette ad esempio di vedere per nominativo quante volte una persona è venuta a mangiare nel mio ristorante in che periodo in che orario in che fascia oraria questo è uno strumento che prima non c'era e devo dire che noi ad esempio abbiamo questo ristorante in zona Porta Venezia dove ci sono tantissimi stranieri tantissimi turisti e devo dire che la prenotazione online è uno strumento forse ancora poco utilizzato dagli italiani mentre gli stranieri soprattutto provenienti da alcuni stati ad esempio gli spagnoli prenotano quasi esclusivamente tramite lo strumento tecnologico e questo per noi è molto utile perché essendo in una zona particolarmente turistica e non tutti utilizzando questo strumento per noi è sicuramente dal punto di vista dell'acquisizione di clientela ed è fatturato un vantaggio notevole perché non tutti ancora oggi lo fanno devo dire purtroppo che invece nella cultura dei clienti italiani quello che succedeva una volta nella prenotazione telefonica nel momento in cui poi il cliente doveva venire molte volte non si senza comunicare senza telefonare non si presentava questo a volte avviene anche con la prenotazione online ma in misura inferiore in misura a volte inferiore a non quella telefonica una volta molte persone prenotavano anche lasciando il numero di telefono e poi non si presentavano questo avviene anche online ma proporzionalmente forse ormai in misura inferiore perché comunque la prenotazione online riporta un nominativo un email un numero di telefono per cui è più facilmente rintracciabile il cliente che non si presenta ok ma ci può solo dire quanti coperti ha nelle due attività così anche per capire il rapporto tra strumento e complessità organizzativa perché in un ristorante abbiamo circa 100-120 coperti e in un altro 50-60 50-60 e le prenotazioni online in base alle due zone però piano piano sta aumentando fino ad arrivare quasi a un 20-30% online ma il gestionale ce l'ha in entrambi i ristoranti in entrambi i ristoranti e anche in quello da 50-60 coperti viene utilizzato quotidianamente sia a pranzo che a cena ma anche per inserire non solo prenotazioni o elementi legati alla prenotazione online ma anche per il lavoro quotidiano per le prenotazioni diverse per tutto quindi lei riesce per esempio a vedere qual è il tasso di ritorno dei clienti in base ai camerieri che hanno servito i clienti anche anche ma soprattutto quello strumento mi permette di poter vedere quel cliente quante volte in un mese in sei mesi in un anno è venuto a mangiare da me con quante persone in che fascia oraria perché sembra una banalità ma può essere che un cliente possa venire a mangiare sempre solo dopo le 10 di sera perché lavora o solo alle 7 perché per motivi di salute o perché esce dall'ufficio e tornerebbe indietro oggi rispetto alle prenotazioni online anzi se fosse è uno strumento che utilizzerei molto probabilmente ancora prima di quanto ho iniziato a farlo ecco ovviamente questo non aveva nessun intento non voleva essere uno spot promozionale si delle prenotazioni online naturalmente non delle piattaforme che lavorano in questo caso De Fork perché non è questo l'intento di una chiacchierata così e poi ho per capire però per esempio ci sono quegli eventi qui Elena Collini fa finta di non sentire ma scherzo ci mancherebbe quando quegli eventi con gli sconti lei come li vive o meglio partecipa come li vede che cosa consiglia la maggior parte penso dei ristoratori che non aderisce che non li fa li vede come uno strumento un po' particolarmente negativo nel senso ma per quale motivo un ristorante deve applicare per un periodo che sia breve per un numero di coperti che poi uno può decidere uno sconto per quale motivo io ho diritto e continuerei a farlo perché è uno strumento per cui le persone come quando si regolano nei mesi di giugno luglio per i saldi a comprare i vestiti e tutti aspettano quel momento e magari lei stesso vede una pubblicità di saldi legato a un particolare capo d'abbigliamento e lei va in quel posto che magari non conosce o che non sarebbe mai andato solo per quel motivo molte persone si recano in un ristorante magari sconosciuto che non sarebbero mai andati perché vedono la possibilità di andare a mangiare con uno sconto bene allora adesso le dico e poi giriamo lei quindi è in grado di monitorare quando fa la promozione quindi con lo sconto quali sono i clienti che arrivano quanti tornano in condizioni normali una buona percentuale di persone tornano quindi una buona percentuale di persone che sono venute una buona non tutti una discreta direi una discreta percentuale di persone che sono venute a mangiare magari anche una volta sola e che non ci conoscevano e sono venute a mangiare con lo sconto è capitato di rivederle più volte perché si sono trovate molto bene e quindi a prescindere dell'essere venuti una volta con lo sconto sono diventati i nostri clienti per cui anche se la percentuale può essere considerata minima è sempre comunque un qualcosa in più rispetto a non avere dice che è un'attività di promozione che vale la pena fare io le dico se ve forche proprio per un ristoratore secondo me ovviamente non è che tutti possano essere d'accordo però nel momento in cui io per anni ho fatto ho preso una parte del mio budget per fare della pubblicità e ho speso in un anno 10 mila euro per comprare un cartello in cui c'era scritto ristorante viveca via Tarditalia ho un costo certo ma non ho un ritorno certo e ho speso una cifra allora io questa stessa cifra la metto da parte la do ad esempio come costo della piattaforma V4 ma qual è la differenza sostanziale che io ho speso la stessa cifra ma il cliente ho la certezza che sia venuto da mangiare da me quindi ho un ritorno e ovviamente poi dipende se uno lavora bene può essere che acquisisca anche clientela nuova che non mi conosceva e che con quella spesa fatta per la pubblicità non mi sarebbe mai entrato nel mio locale questo è il mio pensiero grazie grazie allora adesso prima di passare diciamo alla alla blockchain poi magari così volevo far fare una battuta a Rellini dire gusto la Fipe ha avviato da qualche tempo una iniziativa contro lo spreco alimentare nei ristoranti voi sapete che oggi la stima si stimano 15 miliardi di euro come spreco alimentare naturalmente il grosso dello spreco avviene in casa e una quota intorno al 20% avviene fuori casa ma non solo nei ristoranti anche nei luoghi di produzione di approvvigionamento delle materie prime quindi tutto la filiera agroalimentare e poi 80% canale domestico questo è il rimpiattino lanciato da Fipe con Comieco che sta avendo grande interesse ma c'è un'altra iniziativa che non è diciamo non è l'alter ego del rimpiattino guarda un altro aspetto che è quello del gestire le eccedenze di prodotto alimentare all'interno dei luoghi di ristorazione che non sono necessariamente ristoranti stiamo parlando di pasticcerie di bar prevalentemente sono queste le attività interessate Rellini così ci racconta un attimo cos'è Regusto e come opera sì salve a tutti partiamo dal nome Regusto chiaramente dal latino gustare di nuovo quindi si capisce subito la filosofia il tema dello spreco è un tema caldo solo poco fa a mezzogiorno c'era la tavola rotonda della regione Lombardia sullo spreco alimentare i numeri appunto li abbiamo detti Fipe è impegnata in questo tema col rimpiattino ma diciamo che lo spreco nel settore ristorativo che è quello che interessa comunque anche a noi avviene appunto a due livelli quello che avviene a valle che può essere gestito con la classica doggy bag quindi lo spreco più visibile che rimane sul piatto appunto da parte del consumatore e chiaramente può essere gestito in questa maniera noi introduciamo una soluzione che può gestire quello spreco a monte che ci può essere in alcune tipologie di ristorazione più che la ristorazione classica diciamo uno street food o comunque sia cucine di varia tipologia che possono essere anche asiatica noi ci sono dei modelli che funzionano molto bene nel nord Europa e alcuni stanno arrivando anche in Italia con numeri molto importanti quindi si va dal pasticceria facci degli esempi che cosa fate voi come regusto noi stiamo lanciando un'app che parte da Roma e che arriverà anche a Milano a livello appunto nazionale per la segnalazione di offerte last minute a sport quindi sono prodotti che rischiano di essere invenduti quindi a fine giornata ci sono già le brioche ma sì non soltanto la pasticceria però di fatto anche lo street food gourmet o comunque sia cucina asiatica sushi piatti anche di qualità appunto pasta healthy food veg food quindi diverse tipologie di ristorazione che già in alcuni casi attuano all'interno una scontistica dopo una certa ora per recuperare prima di tutto il valore economico di quel piatto ma avere anche un ritorno economico quindi dopo le 5 scontano del 50% il prodotto che rischia di essere sprecato noi lo digitalizziamo e lo amplifichiamo attraverso la nostra app con un concetto di prossimità quindi sfruttando la tecnologia del proximity marketing arrivando in maniera mirata in tempo reale agli utenti che si trovano in zona quindi da un lato ci sono queste attività di ristorazione che si registrano dall'altra ci sono c'è la app che viene scaricata dai consumatori dagli utenti e questi vanno a vedere se ci sono offerte c'è l'acquisto che viene fatto in app c'è una fee su transazione e quindi non c'è un delivery in questo caso ma un concetto di asporto virtuoso attraverso una gourmet bag eco sostenibile che diciamo agevola l'esperienza e arricchisce l'esperienza del cliente che può andare a ritirare il piatto e portarselo o in giro comunque Regusto è qua poi magari se qualcuno fosse più interessato ha qui uno spazio io adesso passerei poi siamo abbiamo ancora un quarto d'ora magari facciamo un giro un secondo giro per tutti passerei adesso la parola a Virgilio Maretto Virgilio Maretto oggi ha anche la maglietta lui ormai è diventato Posti noi ci siamo conosciuti perché è venuto ci siamo conosciuti ad un master della scuola di business del 24 ore poi lui si è avventurato nel mondo della ristorazione per avviare un'attività che ha chiamato Posti adesso questo Posti è diventato un brand dietro il quale si stanno sviluppando tutta una serie di iniziative ecco magari ci puoi raccontare che stai facendo come si può pensare che la blockchain possa essere applicata al cibo visto che nasce per la moneta virtuale è una cosa che funziona poi si può toccare allora ringrazio innanzitutto Luciano che mi ha invitato e soprattutto poi è stato un mio mentor ecco da da ormai diversi anni ha visto un po' la trasformazione pure di Posti che è una start up che è nata l'anno scorso quasi un anno fa proprio con l'obiettivo di valorizzare il cibo italiano e lo vogliamo fare tramite proprio la tracciabilità della filiera agroalimentare in blockchain utilizzando tecnologie innovative ecco una su tutte proprio la blockchain ma anche altre tecnologie innovative quali l'internet of things quindi tutti i sensori che ormai si utilizzano anche nella ristorazione e utilizzando anche altre tecnologie big data analytics realtà aumentata quindi ecco utilizzando le tecnologie per dare valore alla filiera agroalimentare tornando proprio alla blockchain la blockchain è nata con la moneta virtuale con il bitcoin però poi in realtà si è visto che si può applicare bene a ciascuna filiera quindi dove c'è praticamente uno scambio tra più parti dove ci sono delle transazioni ecco la filiera agroalimentare è fatta da tante transazioni da scambi tra più parti si parte dal contadino dal produttore dall'agricoltore fino poi arrivare al ristoratore al consumatore passando per il distributore che lo state abolendo per il trasformatore e per tutti ecco i soggetti coinvolti nella filiera quando c'è questo scambio tra più parti ecco la blockchain che cosa fa la traccia e garantisce l'affidabilità di questa transazione ne garantisce la provenienza dell'informazione non ne garantisce il contenuto cioè per intenderci ecco spesso con Luciano diciamo ne discutiamo e in realtà se uno inserisce in blockchain delle informazioni errate rimangono errate quindi se uno dice di usare il pomodoro torpedino che poi vediamo abbiamo usato noi nella panzanella in realtà poi se invece ne ha usato un altro ha usato un pomodoro cinese in realtà questo la blockchain non è che riesce a riconoscerlo non è diciamo arriva a questo livello però ecco sa chi è e chi ha inserito quell'informazione in che data l'ha inserita e se aveva i diritti per inserirla quindi nel momento in cui uno vuole risalire a tutti i soggetti della filiera probabilmente può riuscire a rintracciare chi ha inserito quali informazioni ecco noi l'abbiamo applicato all'inizio diciamo l'anno scorso su una ricetta la panzanella dello chef Antonello Colonna e il quale diciamo ci siamo incontrati subito ha sposato questo progetto e lo abbiamo fatto proprio a partire dal pomodoro quindi dalla piantina di pomodoro la piantina di pomodoro diciamo è stata piantata in quel caso il primo giugno dell'anno scorso e ne abbiamo seguito tutta la coltivazione attraverso una stazione di monitoraggio che praticamente ha dei sensori che innanzitutto geolocalizzano l'informazione cioè geolocalizzano dove è il campo di coltivazione del pomodoro e ne rilevano anche tutta un'altra serie di parametri ad esempio l'esposizione al sole del pomodoro perché poi il pomodoro se viene la piantina di pomodoro se viene esposta al sole è bene è più succoso il pomodoro che poi ne deriva se viene esposta al vento la piantina si impollina di più e produce più fiori e poi più pomodori quindi vengono rilevate tutte quelle informazioni che sono fondamentali per la coltivazione se riceve una grandinata e si distrugge la coltivazione di pomodoro questa viene tracciata dalla stazione di monitoraggio e viene inserita in piattaforma basata su blockchain Virgilio prima di fare delle cose però faccio dicono Antonello Colonna è uno chef patron conosciuto ce ne sono c'è Moreno Cedroni qui al tavolo faccio riferimento a lui per dire ma uno chef patron che è conosciuto riconosciuto di cui della cui competenza nessuno sulla cui competenza nessuno ha dubbi ha bisogno di passare per la tracciabilità del prodotto in quel modo lì per dare sicurezza al consumatore cioè se Moreno dice che quel pomodoro che lui sta utilizzando è quello ha bisogno di fare altro di aggiungere altro qual è lo bisogna capire bene ci devi far capire bene perché dobbiamo arrivare non basta la faccia o il brand del ristorante il consumatore però è diventato molto esigente è un consumatore consapevole e quindi naturalmente si può bastare sicuramente la faccia però naturalmente ha bisogno proprio di tante altre informazioni che semmai non sono subito evidenti che guardando la faccia di Moreno non si riesce subito a vedere da dove proviene infatti faccio un esempio che avvalora quello che hai detto che il cliente si fida di quello che io gli dico però si possono dare più informazioni cito un'esperienza che ho vissuto un mesetto fa a Copenaghen da Noma uno dei migliori ristoranti del mondo dove servendo un piatto col king crab permetteva ai clienti col cod di vedere il tipo di barca impegnata il pescatore e tutte le funzioni che portavano alla pesca di quel king crab e quindi allora state dicendo se ho capito bene che non è solo un problema di fiducia ma anche di racconto di raccontare meglio una storia che merita di essere raccontata questo è un po' il senso sì le informazioni che vengono acquisite vengono tracciate e garantite e probabilmente nel caso di Moreno nel caso di Antonello Colonna probabilmente non ce n'è bisogno però poi devono essere anche sapute raccontare e quindi in uno storytelling che naturalmente sia di valore per il consumatore noi l'abbiamo fatto come dicevo prima per la panzanella e oggi naturalmente trasportare la panzanella non è stato possibile naturalmente evidentemente da Roma o dalla Bico dove è Antonello Colonna e quindi però di questa panzanella in realtà tracciandone in blockchain è diventata in qualche maniera una panzanella un po' digitale perché le informazioni di quella panzanella sono state tracciate immutabilmente in blockchain una volta che le informazioni vengono tracciate in blockchain non si possono più cancellare quindi quel pomodoro che è stato piantato il primo giugno che è stato coltivato con una temperatura un'imidità un'esposizione al sole è tracciato per sempre quindi è rimasta traccia di questa panzanella all'interno della blockchain e poi queste informazioni come dicevamo prima poi devono essere naturalmente veicolate al consumatore noi lo abbiamo lo si può fare in tante maniere lo si può fare anche nella maniera più classica poi stampando queste informazioni sul cartaceo perché non tutti naturalmente sono diciamo così vicini alla tecnologia e semmai non usano lo smartphone a tavola ecco quindi le informazioni poi si possono erogare al consumatore in maniera diversa adesso ecco va tanto di modo il QR code e quindi noi per non abbiamo potuto portare la panzanella abbiamo portato il QR code un QR code edibile quindi potrete assaggiare la panzanella in questa maniera in realtà prima di mangiarlo quello che potete fare è inquadrarlo con il vostro telefono se avete un iphone potete inquadrarlo direttamente con la fotocamera se invece avete un altro dispositivo dovreste avere un'applicazione per la scannerizzazione del QR code ti faccio una domanda se io avessi voluto su quel QR code mettere un po' di pomodoro liofilizzato l'avrebbe letto il telefono? probabilmente sì infatti diciamo il prossimo passo adesso allora tu puoi inquadrarlo così racconti la cosa puoi allora si vede che ha una certa dimestichezza con la tecnologia Virgilio ecco allora se lo inquadrate che è successo? no no adesso eccola qua allora se inquadrate il il QR code dovreste arrivare su questa pagina dove praticamente c'è la panzanella proprio di Antonello Colonna panzanella firmata proprio da lui con la descrizione degli ingredienti ecco in questo caso è una ricetta molto semplice basilico olio pane e pomodoro il pomodoro torpedino di cui dicevamo che proviene da Lazio da Fondi le lavorazioni quindi tutti i passaggi che sono stati seguiti dallo chef per realizzare la panzanella quindi il pane queste sono tutte informazioni che sono immutabili tracciate oramai in blockchain e nessuno più può cambiarle la preparazione del pomodoro l'ammalgamamento degli ingredienti l'impiattamento e le guarnizioni addirittura qui abbiamo anche diciamo con la collaborazione di un istituto culturale di un istituto nutrizionale fatto anche una un'analisi nutrizionale per capire quali sono gli aspetti relativi proprio alla panzanella in particolare al pomodoro e poi con l'insor abbiamo fatto anche una ricerca storica della panzanella che originariamente si mangiava bagnando soltanto il pane sotto la sorgente le sorgenti ecco di labico ecco non finisce qui quello che dicevamo prima se cliccate sull'icona del pomodoro torpedino praticamente andiamo al ritroso e quindi andiamo a vedere ecco la geolocalizzazione del campo di pomodoro torpedino in questo caso è stato coltivato a via di Vallefredda 52 e questa è un'informazione che automaticamente viene geolocalizzata e rilevata dalla stazione di monitoraggio e inviata in piattaforma ma non solo ecco c'è il trapianto in questo caso il primo giugno le piantine erano diciamo appena nate sono state trapiantate e poi così via abbiamo diciamo un campionamento della coltivazione ecco notturno e diciamo il 30 agosto ecco adesso i pomodori erano ormai arrivati a maturazione e sono stati raccolti ma chi avrebbe immaginato solo qualche tempo fa cose di questo tipo nella ristorazione nostra quella tradizionale io penso che non l'avrebbe immaginato nessuno ma ad esempio non so se intanto se Tunde pensa che questa roba qua si possa trasferire per esempio al delivery non lo so te la metto così come allora prometto che anche per me è una novità però penso che in linea di massima si possa trasferire a tutto anche al delivery sì direi di sì è interessante perché pensando proprio al fatto che lì c'è un mondo in cui c'è il ristorante che anche lui ha la sua credibilità fiducia ma c'è un passaggio fatto da un intermediario che arriva a casa portando delle cose magari quello che sta a casa non vede il ristorante ma lo va a vedere online probabilmente però può già trovare delle cose sulla confezione il racconto dei prodotti eccetera ma questo in realtà è un tema fondamentale che va anche molto al di là del discorso blockchain perché in effetti il consumatore non percepisce alcuna differenza o alcun limite tra chi offre il servizio di delivery quindi può essere Deliveroo Glovo Gazzit qualunque e il ristorante vero e proprio non percepisce dov'è che finisce la responsabilità la competenza di uno e dove inizia quello dell'altro quindi puntualmente succede che contattano noi per un problema con il delivery invece noi chiaramente siamo responsabili fino a quando consegniamo il sacchetto e dopo il delivery non lo effettuiamo noi e non possiamo dare informazioni e contattano la piattaforma per richiesta non so sostituiscimi il tonno con il salmone che invece è chiaramente competenza nostra quindi sì siccome il consumatore già fa fatica a distinguere tra chi eroga il servizio e chi produce invece quello che arriva a casa penso che questo possa essere un ulteriore la blockchain rende trasparente tutta la filiera tutti i passaggi poi queste informazioni in realtà sono tantissime informazioni noi le abbiamo messe tutte per far capire la potenza però poi in realtà al consumatore servono poche informazioni nel caso noi l'abbiamo applicato ad esempio lo stiamo applicando ecco sul pesce in quel caso sulla ragosta con un ristorante rinomato di Roma e in quel caso per esempio l'informazione fondamentale io la chiamo la killer information è la provenienza della ragosta negli altri casi ad esempio nei mercati rionali lo stiamo applicando anche alla filiera ortofrutticola dei mercati rionali i mercati rionali a Roma hanno sono un fiore all'occhiello e praticamente non tutti sanno che comprare frutta e verdura al mercato rionale a Roma probabilmente anche in altri mercati è acquistare significa acquistare frutta e verdura che è stata raccolta addirittura fino a sei ore prima quindi un super fresco e questa è l'informazione fondamentale che va raccontata al consumatore ecco quindi noi stiamo facendo un progetto con i mercati rionali per far capire ad esempio le ciliegie quando sono state raccolte sono state raccolte sei ore prima dalla vendita non solo la raccolta ma anche ad esempio le varietà di ciliegie della biodiversità che è diventato uno dei valori diciamo fondamentali ecco anche in quel caso conoscere la varietà il nome varietale di un prodotto è importante come pure la provenienza in quel caso noi riusciamo anche a dare al consumatore l'informazione sulla maturazione di quella frutta e di quella verdura misurando il grado zuccherino della frutta che si sta vendendo ecco quindi tutte queste informazioni poi naturalmente bisogna saperle raccontare personalizzarle per il consumatore per il target naturalmente al quale ci si sta rivolgendo e naturalmente tante altre informazioni possono rimanere ad uso e consumo interno degli attori della filiera pure per diciamo ottimizzare i processi naturalmente che vengono coinvolti Tu ci credi a queste cose qui o pensi che sia una diciamo da estremisti? No no sono cose molto belle molto però devono essere come il nostro lavoro qual è il segreto del nostro lavoro? Fare tutti i giorni bene e lì tutti i giorni tu poi devi dare quello che dimostri e non so se è sempre difficile perché poi ognuno ha sempre gli scheletri nell'armadio quindi questa trasparenza ben venga che ci sia ma sarà un pochino difficile attuarla nell'imminente però è bello pensarci è bello iniziare e poi fare piccoli passi per avere una trasparenza totale ma vi assicuro che è un progetto difficile ma va assolutamente iniziato tu parlavi prima non tutti hanno i mercati regionali come questo o come i tuoi ci sono mercati regionali dove invece la roba viene dai mercati generali di non so dove ecco Morino prima parlavamo della stagionalità ad esempio noi l'abbiamo voluto fare proprio quanto è talebano in questo senso lui dice il pollo i peperoni ad esempio si fa solo il 15 agosto la panzanella noi l'abbiamo fatta solo per tre mesi dopodiché Virgilio però io dico una cosa noi Moreno lo sa abbiamo aperto un'avvertenza sull'asterisco nel congelato come Fipe è veramente è un'avvertenza che abbiamo aperto da tempo però adesso siamo sempre più convinti che sia un problema da superare ma non perché non vogliamo essere trasparenti perché qualcuno potrebbe pensare vuole togliere l'asterisco per rifilare al consumatore il prodotto surgelato tarocco vogliamo invece toglierlo perché va smontato un preconcetto un luogo comune che è quello secondo il quale un prodotto congelato è di qualità inferiore a un prodotto fresco questo sappiamo tutti gli addetti ai lavori sanno che non è vero però le aziende prendono sanzioni penali per frode in commercio se non mettono l'asterisco sul singolo prodotto allora con questo discorso qui nel momento in cui io non metto l'asterisco su un branzino di cattura abbattuto e che e invece magari non metto l'asterisco perché non c'è bisogno su un'orata d'allevamento da 5 euro al chilo da 6 euro al chilo o meno io sfido chiunque a dimostrare che quel branzino è di qualità inferiore all'altro per cui era necessario mettere l'asterisco quindi questa tecnologia secondo me può aiutare non solo noi ma anche i controllori che spesso si affidano soltanto all'asterisco certo si sta diventando ma anche l'ingrediente già li è sbagliato a prescindere perché la norma è chiara sull'ingrediente però anche qui è come stamattina allora la tecnologia se serve a fare più trasparenza ed è vero che la trasparenza è un impegno perché se fai se fai le cucine a vista devi essere diciamo agire in un modo diverso dal fatto che magari qualche quello che non ce l'ha vista agisce perfettamente però è chiaro che se non ti vedo immagino delle cose se ti vedo vedo quello che fai qualcosa col dito l'assaggi se non ti vedo quindi questo allora stavo pensando quindi abbiamo detto sicuramente questo discorso della tracciabilità può essere il futuro perché noi sappiamo che c'è una tendenza sempre più forte da parte di tutti dai consumatori in primis ad avere informazioni quindi la tracciabilità prima o poi ce la ritroveremo anche noi anche se oggi siamo consumatori finali non dobbiamo fare alcune cose ma nel tempo probabilmente alcune cose potrebbero cambiare la seconda cosa abbiamo visto che il delivery e non so se poi prima di passare la parola e faccio chiudere perché siamo oltre a Tunde se vuoi dire quali sono un consiglio ai ristoratori che vogliono fare delivery e una criticità che poi su cui bisogna stare attenti aggiungo un'ultima cosa riguardo al blockchain che nel frattempo mi è venuto in mente che proprio ieri ma succede se voi tutti i giorni un nostro consumatore ci ha scritto su Instagram facendoci un complimento e ci ha detto ho mangiato un salmone eccezionale volevo capire che qualità di salmone era ora noi possiamo rispondere che è la verità che sono 15 anni che lavoriamo con il salmone quindi è frutto di una lunga ricerca insieme al fornitore abbiamo trovato questo allenamento in Norvegia e va benissimo e il consumatore si fida e ci crede però sarebbe stato molto più carino poter invece far vedere qualcosa di più concreto cioè non è tanto l'informazione alla fiducia è proprio la parte storytelling che in questo manca perché o mi metto io a contattare quell'allenamento in Norvegia mi mandi una foto e faccio vedere al consumatore però è complicato oppure ci può aiutare un'applicazione di questo genere torno alla domanda se posso dare dei consigli allora sicuramente il prodotto per essere ottimizzato su piattaforme di delivery va sicuramente ripensato quindi nel ristorante classico per noi è molto importante per certe preparazioni la freschezza è che arrivi a tavola in pochissimi minuti a volte secondi quel tipologia di piatto preparazione probabilmente semplicemente non è adatto al delivery quindi va ripensato in base al fatto che dobbiamo immaginare che arriverà a casa del cliente 30, 40, 50 minuti dopo deve essere preparato in quest'ottica esatto quindi il prodotto le operations dobbiamo ripensarle perché lì diventa mentre al ristorante se noi sbagliamo una cosa riusciamo a rimediare immediatamente al delivery invece questo non avviene quindi bisogna formare il personale per acquisire un grado di precisione attenzione molto maggiore pensando che se fa un errore con il delivery non è rimediabile quindi per concludere il discorso poi passo per concludere vuol dire che se si sceglie di andare sul delivery bisogna farlo in modo consapevole non è soltanto una variante del proprio modello di ristorazione del proprio modello di business se io faccio questo faccio anche il delivery non è così bisogna pensarlo Paolo vuoi aggiungere qualcosa stai pensando a qualche altra cosa dal punto di vista della tecnologia la blockchain sulla pizza come la vedi? Sarebbe molto interessante perché i clienti che vengono a mangiare poter immediatamente visionare lo spec da dove arriva è un qualcosa di unico probabilmente certo come diceva lui poi bisognerebbe che questo corrisponda sempre alla verità cosa che spesso magari non è così semplice da fare però sarebbe bellissimo sarebbe bellissimo comunque ristorazione e tecnologia sono amici diciamo sicuramente più che amici ormai è stata una necessità perché sono i clienti che te lo richiedono Paolo vuoi dire aggiungere qualcosa sul regusto? Sì chiaramente a proposito appunto di tecnologia noi l'applichiamo proprio per la gestione dello spreco e quindi è sicuramente una necessità che sarà sempre più diffusa anche in Italia Sì anche ricollegandomi alla blockchain l'informazione è essenziale anche quando il cliente è il ristoratore stesso proprio per questo noi creiamo come anche loro tutti i contenuti spieghiamo da dove arrivano queste materie prime facciamo le foto per far capire al meglio al ristoratore quello che sta acquistando da dove arriva chi è il venditore chi è il produttore dove è stato fatto in modo che può comunicare poi alla clientela il suo piatto come è stato realizzato e qual è stata la selezione delle materie prime senza magari doversi recare direttamente in una determinata Allora io pensavo che potremmo chiudere intanto ringrazio tutti quelli che sono stati pazienti fino alla fine dal presidente Capacchione che è stato lì attento e sta pensando già a qualcosa sugli stabilimenti valneari sarebbe bello però pensando a quella tua iniziativa dell'estate dare un po' di informazioni sull'origine anche dei prodotti mettendoci un po' di tecnologia questa potrebbe io dico così lo dico molto convintamente se ci fosse dal lato del mondo della ristorazione dei pubblici esercizi una sorta di Fipe Lab dove potessimo discutere di alcune cose confrontarci sull'innovazione sul cambiamento ma anche in modo speculativo non necessariamente nel tunnel di non necessariamente solo per dire domani facciamo così perché è chiaro che un imprenditore pensa subito all'applicazione però a volte bisogna anche un po' speculare nelle cose allora se ragionassimo poi ovviamente le piattaforme vanno per la loro strada sia De Fork che farà sviluppo alla piattaforma secondo le linee che decidono loro le piattaforme di delivery faranno le cose però vista poi dal mondo della ristorazione perché spesso secondo me noi corriamo il rischio che altri interpretino i bisogni della ristorazione e magari non conoscendoli bene spesso capita ci può essere questo mismatch tra due cose allora noi potremmo anche costruire un momento di riflessione in cui diciamo guardate che non è così bisognerebbe dovete pensare a questo se io penso adesso all'amico di Fuscoveri dico va benissimo pensiamo ai piccoli produttori ma dobbiamo pensare prima di tutto al mercato alla domanda e loro probabilmente l'hanno fatto questo ragionamento io parto dalla domanda e poi costruisco chi soddisfa cioè vado a individuare chi soddisfa quel bisogno che è una regola banale ecco allora il mondo della ristorazione penso che lo conoscono bene i ristoratori Presidente vuoi dire qualcosa a concludi tu poi anche allora facciamo no facciamo dire una cosa ascoltandovi mi è venuto in mente pensiero meridiano di Franco dei stabilimenti balneari tra l'altro quest'anno noi faremo tre giornate gli ultimi sabato di giugno di luglio e di agosto in cui cercheremo negli stabilimenti balneari di presentare l'eccellenza dell'enocastronomia italiana d'accordo con il ministro Centinario del turismo e dell'agricoltura in pensiero meridiano un sociologo meridionale di Bari Franco Cassano dice adesso un prodotto a mercato non tanto perché è utile ma perché suggestiona il contenuto di suggestione di un prodotto determina la sua affermazione quindi la tecnologia che ci avete illustrato aiuta il mercato perché va incontro a questo bisogno di suggestione che noi tutti i consumatori abbiamo e io pensavo quando mi dicevi Luciano a che cosa pensavi tu io pensavo alle mie patate cioè le patate del mio territorio che vengono gustate dalla regina Elisabritta da decenni il mio terreno piccolo comune la patria del sale Margherita di Savoia in Puglia noi esportiamo le nostre patate e il fornitore di casa reale inglese utilizza le nostre patate che sono eccezionali le patate che sono eccezionali ecco pensavo alle mie patate beh che dire il cibo è l'espressione più autentica della storia e la cultura di un popolo e secondo me la tecnologia proprio raccontata oggi in un modo eccellente rimette però al centro l'uomo l'uomo che produce l'uomo che trasforma l'uomo che somministra quindi secondo me la ricerca della nostra dimensione del legame col territorio sull'autenticità sulla storia della cultura alla fin fine la tecnologia ci aiuta a trovarla perché c'è veramente sempre più bisogno di sostenibilità di legame di identità di storia e oggi io penso proprio che la tecnologia rappresentata in un modo eccellente ci aiuta proprio a trovare quella dimensione che forse si stava allontanando forse si guardava più le cose più gli effetti speciali e meno proprio quel legame col territorio che rende unica poi quell'esperienza quella storia quell'urbanistica quegli arredi quel contesto che ripeto fa parte di uno stile quindi io penso che oggi sempre di più dobbiamo creare le condizioni per dare valore a chi produce a chi produce a chi trasforma insomma in un modo corretto quindi penso che un sistema di sviluppo di riflessione che possa mettere al centro proprio questi valori e li trasformi e usi la tecnologia non farci usare come molto spesso succede io penso che sia una bella sfida che come FIBE dobbiamo affrontare grazie grazie presidente io ringrazio tutti ovviamente voi e ringrazio tutti i loro qui per la disponibilità che ci avete dato speriamo di rincontrarci ancora magari per anche in momenti diversi non sempre per ragionare di tecnologia ma magari anche per mangiare soltanto grazie è stato un piacere ciao grazie